Will you marry me please? Will you marry me please? Ma come cazzo si gioca? Ma come cazzo si gioca? Paccaboya, si sparano digia Ma dove era customs? Ma io ce l'ho delle granelle, non cazzo Mi fa spettare per piangere Io non ho flashbang Si 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 Muscle si Si Sto facendo un recap dei comandi Eh Quanto c'ho lo schermo? Forse un pelino basso Questa pasta forse è di merda E non sono stato io Mmm Che vero c'è la sensibilità madonna troia Mignone Che cosa c'è qui dentro? Eh, non lo so Mi sto regolando la sensibilità velocissimamente perchè sto impazzendo Wow C'è uno fuori Improvabile Eh, ecco Ti sei mosso madonna C'è arrivata una di quelle granate Ma mi sto Mi sono mosso silenziosissimo Ah, è vero, io c'ho le cuffette No Sono due forse Ma andiamo a prendere Sì Si sente malissimo, cazzo Si Si son due Ma sta sopra Eccolo la E' dietro dall'altra parte L'ho uccisa Eh, aspetta, ce n'ha colto un altro Si C'era un altro Dove era quell'altro? Eh, fuori Fuori dove? Sotto il traliccio più o meno No, accanto al muro Sotto il palo della luce Ucciso Ucciso, ucciso L'ho ucciso o si è droppato per terra? Non lo so perchè gli sparavo anch'io Nel dubbio lancio una flash in là E si drilla E si drilla E' moruto? Chi lo sa? Io vedevo qualcosa di rosa sotto un cespuglio Io sparavo Di rosa? Sì, lo so C'era qualcosa che non andava in quel verde C'era qualcosa di strano e sparavo Oh, ultimamente Livello 20 Grazie, fra Arrivo Un salegua Un salegua Un salegua Che cazzo dico Sì, lo so Papadapappa Ok, io sono per strada Quale strada? Quella lì a sinistra appena esce Ok Andiamo a vedere l'altro Suono Era da queste parti Oltre il palo della luce Eccolo qui Mister Fox Livello 10 C'ha la K Wow, bello Nei prendi bella clava Così mi copro la faccia Prenditi l'acce emostatico che c'ha nelle tasche Che ti serve Ah, ecco perché non li colpivo Cazzo, è vero C'ho 100 metri di base Sull'SKS Comunque Tarko è l'unico gioco che Se la gente spara mi fa saltare dalla sedia Ho sentito passi dentro? Oh, sì Sì, sì Mi sa che è o è sopra o è sotto la casa in costruzione proprio Cazzo, ma c'è un Un cazzo di M60 sopra Porca Madonna Ma da qua? Non ci passi più Ghiattone Troppo grasso, aspetta forse Da questa angolina No, ok, niente Ora arriva Ora arriva pure C qua Che cazzo fa da sti qua? Oh! Unciso Che cazzo? Mi sembrava qualcuno stesse saltando ma non sembravi te Ma che è Winchester questo? Un M4? Eh sì Sdraiati Non mi piace lì il cappucciato Un cappucciato Che palle non posso nemmeno... Devo sparare senza mirare da ravvicinato Eh, Gippo Eh? Fa un'altra sala eh, qua Ma è finding ride? Eh, sì C'ha la spuntina Eh, no E allora non glielo puoi dare Eh dai... E allora le richiede e fa i dei ride Perché sei stronzo? Eh, Nikita che è un figlio di puttana mannaggia a sua mamma C'è la morfina Cosa è? Da me è più cento... Centocinquanta tre, vabbè Che è nello zaino puttanella? Mamma mia tutta roba... Mamma mia tutta roba piccolina Ma vai grande quanto è il mio Il pisello Il pisellone proprio Ma che è? Ma sto tizio ma che è? C'è che schifo non conoscere gli oggetti Su qui ho c'è un altro player Ma c'è il calcio del fallo Questo lo riconosco dalla forma Vabbè, non c'ho un cazzo Ah, morfina però la vorrei pigliare Che cazzo butto? Butto sta targetta da livello 10 Sono pure Lo splinter, sti cazzi pure Abbo, andamosene Comunque devi smetterlo di farli uccidere tutti a me Sto scendo tutta io Scusa Sono pieno come un facocero E vai all'estrazione Sia tant'ora e si va verso di là Qui dietro sono grossi Quanto grossi? Di due, ce ne sono due belli grossi Grannata! Te tieni quell'altro buco Che palle non ero preparato a questo Ma perché non li sento che c'ho le cuffie? Questa palle è? Qui dietro è? Qui dietro è? Qui dietro è? Qui dietro è? come facciamo? non lo so cioè è impossibile che questi non l'abbia sentiti correre indietro e nemmeno verso di noi te l'ho detto che dentro sentivo passi ah si? ah vabbè all'inizio quello che mi hai detto all'inizio e minchia che arrivano ora ci stavano aspettando ma stavano arrivando e manco stavano guardando il buco erano tipo girati di spalle ma senti ma se lo schippiamo il fight e li giriamo intorno? come dici? ah ah allora ci ritroviamo qua senti ma non vuoi la cappa che spaga il raffito almeno? si però bisogna vedere che colpi ha ma perchè qua c'è i bp che posso uccidere se colpisco ma è 545 vabbè cazzo colpi dico colpi oh ma dico colpi che gli ps bp bp eh c'avrei ps guarda lo dico subito dai ps un po' infatti il solettichino all'ombelico eh ho capito vuoi stare zitta che non sai altro mmm un attimo sto fa una drillata velocissima ok a posto chissà se sono stando qui davanti beh l'hp lo riconosco eh ma io non so che cazzo avevano loro ma non lo visti bene non c'è lo stracchino hai mirato tu no? si oh cazzo mi ha aperto vero eh si porca merda che macello mi sono fatto nelle orecchie guarda che brutto mi sento scoperto sono morto in mezzo alla strada l'inconio questo qua non è il ponte si guarda uno stava subito a sinistra erano due subito a sinistra ah io ne ho messo uno sotto che palle avevo sprecato la mia flash tanto vedi se usciamo vivi poi vedi se l'hai sprecata però è una giusta casa non soppurano te sei un pazzo te sei un pazzo te sei un pazzo mi chiamavano grassa e balena qua hanno modificato le cuffie non senti i passi dei nemici non lo so come è possibile non so che potrebbero le cuffie non so che comunque l'audio fa sempre cagare ehm ma si può usare quella m60 ah no cazzo è un rpk ma c'è già i colpi si e sono infiniti no ah menomale vabbè eeeh e boh ci leviamo di culo e me li presti due chili anche quattro due chili a cappetta aiuto che palle se non ci avevo questa sks sicuramente almeno uno era morto perché io l'ho mirato in faccia ma probabilmente è andato sulle nuvole il colpo se avessi un sks normale mi basterebbe mi basterebbe lo pk7 lo kp7 mi cazzo si chiamava io c'ho lì m856 manco a uno ah no m855 vabbè 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 sono buoni adesso da quando li hanno modificati vabbè 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 lo voi dimmi relato il peso vabbè l'하 mai vabbè granella se buttato per terra vicino al bulldozer stava l'ho visto era sulla collinetta era grosso no sembrava uno scav player mingherlino che ho visto l'elmo nero io lo vedo tutto nero mi tiro un'altra granella quante cazzo ne hai due ne ho non provo a lanciarla dietro dietro il camion al bulldozer devo ricaricare hai minato tu hai fatto tu il caricatore si si devo ricaricare allora senti io ti posso dare questo cazzo di ak e proviamo a pusciarlo lo pusciamo e io sparo senza mirare oh si lo sento correre dietro di noi sono due sono due di terrestre 100 blu si mettiamo se prendono qua no perchè perchè pensavo passasse subito ci sono uno l'altro ancora qua dietro faccio il giro dall'altra parte faccio il giro dall'altra parte faccio il giro dall'altra parte che palle sono un coglione sono già consiglierei di rivederci e io sono ai boilerini i soliti o ce ne sono nuovi no i soliti stai correndo a te sono dietro a delle bobine quindi se vedi qualcuno che non è dietro a delle bobine non sono io io sono ai boiler quelli la quelli verdi e bianchi sai i classici come detto fanno al container blu con l'aperto ok li vedi poi sulla sinistra beh si me lo fai un wiggle tanto per curiosità ok ci sono dietro vita allora questo o è dietro da qualche parte qui non a me si guarda il cadavere del compagno per un po' 19 minuti te dov'è che l'hai ucciso? sempre lì dove dove ha saltato? proprio dove ha saltato sulle cintubre vita caricatore sto attraversando il container dovrei essere di fianco al muro hai corso te? no ho sentito correre che sono molto io sono più avanti ai boiler ok sono io ok sono io mhm boh dici che riesco a fare una kill senza morire? sono davanti a te mhm te le hai finite tutte le granite? si devo controllare ma si c'è non è che magari è vicino all'edificio dove è vicino il container con la monnezza? è probabile ci sia in un angolino là ci sia alla casetta giusto? si sono alla casa in quel prossimo tu stai salando certo di o è lì o è in mezzo alle frasche? cioè non è che ci sono tante altre altre no infatti a meno che non se le sta scappando minchia di nuovo che non senti cioè sentivo te correre dall'altra parte e non sentivo lui vabbè magari ha sfruttato l'effetto granato dimmi quando scendi perchè non ti vedo più ok vuoi*** hm a равav暗 questa lla era un sape dell m4 madonna fa chass star in is qua non vedo piedini quindi non è qui dietro che minca un bari non ti capisco nati un bari o lo baito e corro dove eravamo noi prima no dai non voglio questo rischio ho paura non voglio rimanere da solo non mi lasciare se ti succhia il cazzo ok penso che cazzo fare quanto manca 14 minuti facciamolo si no non facciamo un cazzo scherzando aspettare 4 minuti mi rompo il cazzo preferisci il mio pp19 va bene io vado se muoio pensaci te ok fammo così va tra l'ottore tu quel disgraziato e non fare casino io baito penso che abbia capito che era un momento comunque qua mi sembra tutto fucking clear infatti è la cosa che mi spaventa di più mi sa che c'è il cecchino dove in alto un sv98 mi ha cecchinato e sei morto no o forse no non c'è il cecchino e quindi un player mi ha cecchinato te dove sei ora sono dovrei essere dietro di te dove sei passato tu si è al container blue dove mi hai lasciato ok ok sono qua che non c'è niente no vuoi dire che non l'ho ucciso oh merda no è impossibile comunque no l'ho visto io cadere con porco dio e adesso mi spaventa con l'sv98 che non era lo scavo senti ma se ci diamo di culo e basta ehi andiamo aspetta eh attuazione grazie shadow quality via le ombre ma invece l'altro stronzo io andrei a vedere di troppo bulldozer se c'è qualche morto di granaggio ahahah è vero ahahah è vero no questa zona non la conosco ho paura infatti io controllo gli angolini ma buonissima tra l'altro nell'edificio con la sinistra mezzo distrutto la la gente ci può camperare questo qua gigante si ma dai infatti sono lì dentro guarda c'è morto vero ahahah l'ho ucciso io io lo so io l'ho ucciso io si no l'ho ucciso io che bastardo io ho fatto edici ho di brutto allora lol c'ha la tac tac Gipo eh c'ha una fascia blu mhm ha una fascia blu ah il braccio se l'hai messa solo perchè non non la possono luttare cerco di coprire io l'edificio c'è del sangue all'entrata dell'edificio comunque mhm ma che livello era sto infamino? 43 ma cazzo hanno fatto il wipe l'altro ho sentito qualcosa o sbaglio? mhm dieci minuti Gipo ok minchia c'è anche i bs ok ok andiamo verso l'estrazione solita... solito tunnel? proviamo questo figlio di puttana due granate mi ha fatto sprecare uh uh ho sentito un sascav ho sentito parlare qui davanti però indietro sì 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 Ma qui n'ho messo più roba o sbaglio? Smettila Non mi ricordo se avevo modificato il tasto per mettere il laser Tu non ce l'hai un laser Ora arriviamo a gas station Reshala No oggi sono i player ad aspettarci Anche peggio C'è un morto lì e uno scappor No dopo meno male la sto registrando Dopo mi voglio vedere che cazzo No non mi prendere in faccia E' aperto E' aperto Poi è aperto solo un lato Meno male no Ma anche qui è aperto Ma che cazzo hanno fatto il tasto Vado a vedere se il gas è aperto andiamo direttamente Ma questo caricatore invece ha gli M995 Ma che cazzo è Ma ieri il mio? No sempre BS Ciao Hello Aperta Porca merda Ah ho slato ho fatto male Ti ho morto anche C'è il pompa che ci serve per la festa Sì Ma ormai lo lascio lì No è il 153 Granatozza Vai Yeee Ne ho ammazzato uno ma buono E ne ho ammazzati quattro ma di merda E ne ho ammazzato uno ma di merda